Un nuovo consiglio di amministrazione per la Fondazione Ivan Bruschi. Il nuovo CDE ha voluto da UbiBanca per garantire l'indispensabile radicamento con il territorio eretino e andando ancora più a consolidare il ruolo di centro culturale in ottica regionale e nazionale, infatti operativo dei giorni scorsi. Nominato presidente del Consiglio il dottor Renzo Parisotto, consulente in materia fiscale del gruppo UbiBanca e uomo di grande professionalità e cultura. Sarà nostro impegno essere fedeli alle volontà di Ivan Bruschi, proseguendo gli scopi sui quali è stata fondata questa fondazione e in particolare l'attività della Casa Museo, ha dichiarato il presidente. Compito mio e dei consiglieri sarà inoltre quello di valorizzare il patrimonio creando nuove opportunità di visibilità per la Fondazione e per Arezzo grazie al sostegno garantito da una realtà nazionale come UbiSe in termini di risorse che di opportunità relazionali anche in ambito artistico e culturale. A fianco del presidente il ruolo di consiglieri è stato affidato al dottor Stefano Mendicino e Luca Scassellati, responsabile direzione territoriale di Arezzo e provincia di UbiBanca. Nel ruolo di sindaco e revisore il dottor Luca Benvenuti. Il Consiglio d'amministrazione vedrà infine anche la partecipazione del responsabile della macro area Lazio Toscana Umbria, Silvano Mannella. Confermata infine la fiducia come conservatore a Carlo Sisi grazie al quale la Fondazione potrà continuare a garantire un programma culturale di grande prestigio in sinergia con le principali realtà museali toscani e nazionali. Operativamente la Fondazione verrà seguita in continuità con il passato dai dipendenti del gruppo UbiBanca, Mariaide Moretti e Stefano Pierucci.